buonasera a tutti amici di per sempre news e per sempre napoli dal consueto appuntamento dal ritiro del napoli di di maro oggi la grande notizia è in mattinata all'arrivo del capitano giovanni indorenzo ma ovviamente il la notizia il grosso che ha sussicato l'interesse dei tifosi è stato l'arrivo nel pomeriggio di osimen il capocannoniere del campionato insieme a meretta raspatori kvarascheri allobotka zelischi il grosso gruppo dei nazionali che mancava e che oggi eh si è aggregata al gruppo e si potrà interfacciare con mister eh garcia così viene arrivato con calenda il suo procuratore che ha assistito all'allenamento pomo il pomeridiano al eh allenamento pomeridiano a bordo campo eh appunto per i nazionali che sono arrivati solo eh allenamento in eh sì differenziato in palestra e poi delle poi in ciclette mattinata molto calda eh che ha spinto eh a posticipare l'allenamento pomeridiano di mezz'ora di farlo iniziare alle sei eh quando poi invece c'è stato un eh vero cambiamento di clima eh con la pioggia che ha rinfrescato l'aria per gli azzurri. Per oggi eh è tutto e noi vediamo appuntamento a domani da Ritiro di Di Manu.